Io sono figlio di un portuale, quindi diciamo che sono figlio d'arte e diciamo che noi ragazzi degli anni 60 come me siamo un po' cresciuti in questo mito del lavoro dei nostri padri e qualcuno come ha sottoscritto trascurava forse anche un po' lo studio perché comunque il fine era di arrivare a fare il portuale perché del lavoro dei nostri padri sapevamo il buon reddito, sapevamo la libertà, la fatica però stando attaccato al tavolo a casa sentendo le loro storie rimanevamo affascinati da questo mondo particolare questa io l'ho sempre chiamata una tribù a parte rispetto alle altre categorie dei metallo meccanici e dei chimici quella era per me forse ancora adesso una tribù un po' a parte con dei rituali diversi dagli altri posti di lavoro e quindi diciamo che anche noi tanti come me siamo andati a scuola un po' titubanti, zoppicanti perché comunque il fine era di andare a fare il portuale se non che come purtroppo poi è accaduto i tempi cambiavano e dall'inizio degli anni 80 alla fine degli anni 80 sono usciti dei decreti che tendevano a privatizzare i porti e con diciamo l'acciughina degli esodi, dei prepensionamenti hanno di fatto svuotato le compagnie storiche istituzioni sotto la marina mercantile, l'ente porto di Savona e andavano verso la privatizzazione così che nell'89, io 25 anni mi sono trovato comunque che al lavoro che svolgevo prima andava anche quello lì a termine e ho tentato questa avventura e ricordo con piacere che mio padre innanzitutto mi aveva fatto studiare un po' di inglese prima nelle scuole e mi aveva fatto prendere la patente superiore perché in fondo anche un genitore non ti spingeva più di tanto a studiare perché c'era questa possibilità che diciamo che era buona di lavoro così io mi imbarcai in questa avventura del porto e ricordo con piacere che mio padre pur con poca scolarità ma è sempre stato un uomo che vedeva un po' più e mi ha detto guarda io ti ci faccio andare però sappi che tu vai a fare fra virgolette un altro lavoro perché quello che hai visto da me in questi anni il sistema di lavoro, la retribuzione, dimenticatolo perché tu avrai sì un buon lavoro rispetto a un privato, avrai sempre un po' di libertà però non sarai mai un portuale come siamo stati noi negli anni 60, 70 perché si era trasformato tutto, le navi, la tecnologia, la composizione proprio del salario si andava verso un'industrializzazione del porto e quindi ho iniziato questa avventura già diciamo agevolato dalle spiegazioni di mio pari mentre qualche mio collega ha avuto un impatto più pessimo perché è venuto con l'illusione di poter vivere quegli anni passati che di fatto non esistevano più avevano costituito un SRL perché non potevano più assumere come compagnia istituzione fecero queste SRL e noi primi 40 andavamo a coprire i buchi dei lavori eravamo praticamente specializzati solo nello sbarco di banane sciolte di cartoni di banane dove magari i soci andavano a scegliere dei lavori meno faticosi però devo dire che sarà stato l'effetto della gioventù sarà stato l'effetto che ne veniva da lavori più opprimenti io la mia squadra era un bel lavoro perché c'era la squadra si rideva avevamo preso un po' dal vecchio portuale ci si prendeva in giro nessuno i nostri capi erano i nostri padri eppure nella fatica perché comunque era fatica la giornata andava via serena perché non avevi nessun timore di un superiore e quindi diciamo che l'impatto dei primi anni 80 è questo poi piano piano svuotandosi la compagnia di soci diciamo istituzionali crescevamo noi anche come numeri intanto proseguiva il trend del lavoro che diventava sempre più leggero sempre più tecnologico pur fermo restando che restavano i pericoli sempre elevati anzi forse di più perché i ritmi erano più tecnologici e è abbastanza duro dal lato climatico perché lì non c'è pioggia non c'è sole che tenga comunque sempre un lavoro particolare e anche dal punto di vista salariale venivamo inquadrati poi diciamo più regolarmente perché poi abbiamo ottenuto una sorta di contratto che ci garantiva un minimo salariale che lavorassimo o che no la chiamata che io ho vissuto appunto diciamo dai inizi anni 90 adesso diciamo è cambiata meno rispetto a quanto è cambiata da quando sono entrato io prima nel senso che da me diciamo dalla mia generazione in poi appunto era una chiamata diciamo unica non c'era più non c'erano più tutte le liste le facoltà di scegliere merci ricche merci povere fatti è diventata più una cosa appunto industriale nel senso che segui sempre un rulino ci sono alcune liste più disagiate dove uno dopo una certa età può rifiutarsi di andare diciamo è una via di mezzo ma non è più paragonabile quando c'era mio padre io appunto dai racconti suoi c'erano tutte queste liste dove la discriminante era più che altro il guadagno il guadagno e la fatica venendo meno il discorso tutte e due venendo meno un po' la fatica e avendo una giornata tipo la nostra diciamo di tipo industriale fissa si può dire cioè io prendo tot sia che vado a sbarcare cellulose sia che vado a sbarcare coes piuttosto che rinfuse mentre ai tempi di mio padre c'era una discriminante economica c'erano delle merci che rendevano 2.000 lire delle merci che se ti davi da fare ne rendevano 10.000 quindi già da lì c'erano delle differenze di avviamento noi essendo che è stata portata una giornata fissa diciamo c'è ancora qualche lista che passati 45 anni puoi rifiutare di lavori un po' più pesanti o che hanno degli orari più penalizzanti tipo il quarto turno che la notte diciamo piena da mezzanotte però è una cosa molto più ristretta capisci venendo meno sia il discorso di fatica che soprattutto quello economico perché prima tutte quelle differenze venivano fuori da questa sperequazione di giornate povere e giornate ricche con la mia generazione questa forbice si è parecchio chiusa ecco e quindi adesso la nostra chiamata è un rullino principale che gira sempre a numeri come sempre girato io sono il 77 ho lavorato per ultimo oggi io domani tu sei il 78 la lista parte da te fermo restando ti ripeto quelle due o tre liste che girano per conto loro perché sono volontari prima quando sono entrato andavi lì obbligatorio alle 8 tutti ha chiamato obbligatorio alle 8 del mattino e prendeva questo rullino avviava 30 persone facciamo materialmente c'eravamo tutti i giovani perché eravamo obbligati più i soci istituzionali che c'erano ancora si erano liberi perché aspetta devi partire dal giorno prima nel senso il lavoro del mattino allora era alle 6 adesso si è spostata alle 7 viene programmato il giorno prima con la chiamata delle ore 16 esce un programmato che dice quanti siamo a lavorare il mattino dopo quindi quelli sono fuori automaticamente dalla chiamata delle 8 quelli liberi noi chiamiamo liberi si presentano obbligatoriamente in chiamata alle 8 e vengono avviati per le ore 14 prima era 13 e 30 comunque va beh il turno del pomeriggio e poi c'è una chiamata ci sono delle chiamate intermedie di mezzo turno che una volta era alle 9 e 15 12 e 30 ore 10 e 13 dove da quando eravamo diciamo fra virgolette dipendenti di queste sarelle era obbligatorio ora da soci possiamo decidere di andare o no a fare è una disponibilità più che diamo cioè siamo obbligati a andare a fare il nostro turno al pomeriggio perché siamo liberi poi ci viene offerta questo mezzo turno per andare a coprire appunto questo turno 10 e 13 dove lì dipende da noi se andarci o no poi la chiamata delle 16 del pomeriggio prima quando eravamo dipendenti era sempre obbligatorio adesso diciamo da soci non devi andare lì fisicamente perché è stata rimpiazzata dal telefonino ti arriva sul telefonino famoso programmato del giorno prima che dice frosi roberto turno 16 30 zona 32 sbarco cellulosa e tu sei programmato lì con la tua mansione operaio a terra forcela in terra o quant'altro sei programmato per il giorno dopo quindi diciamo la chiamata del mattino è sempre programmata dalle ore 16 e poi c'è la chiamata del mattino alle 8 dove c'è viene avviato il personale del pomeriggio e quel come ti dicevo quel mezzo turno di disponibilità il nostro lavoro sì che ha ancora tanta libertà nel senso che tu magari sei avviato un turno 14 20 fai quel tot di macchina che c'era da sbarcare te ne vai anche alle 18 e 30 però ancora oggi io mi dico qual è quell'operaio quel lavoratore che sa alla sera magari alle 6 cosa fa il giorno dopo perché tu non ti puoi permettere di prendere un appuntamento dal dentista perché tu sai cosa fai al mattino alla sera prima a volte al sabato che c'è la chiamata per sabato e domenica perché la domenica non c'è la chiamata tu a mezzogiorno magari ti arriva il messaggio che sei a lavorare a luna e mezza alle due di quel giorno stesso quindi a spiegarlo a certi lavoratori che hanno il calendario programmato per tutto l'anno ecco questo a volte noi non lo contiamo mai ma è tanto perché uno da una flessibilità una disponibilità che nessun lavoratore penso in italia sicuro da quando sono entrato io socio vecchi istituzionali erano circa 400 erano ancora circa 4 e noi siamo partiti con 40 di noi di questa srl che era una costola della compagnia poi piano piano che si svuotava la compagnia istituzione aumentavamo noi siamo arrivati a in pratica da zerare la compagnia istituzione ai primi anni 2000 e a portare questa nuova non siamo più srl è sempre compagnia con altra ragione sociale essere circa 150 soci diciamo che poi verso questi ultimi anni siamo poi ricreate le categorie non si sono poi ricreate ci siamo cento circa 150 soci effettivi una trentina di soci speciali che sarebbe al vecchio ventizio e una trentina di occasionali che ora sarebbero gli interinali sotto la quindi abbiamo un po ricostruito nelle debite proporzioni la scala gerarchica che c'era una volta a 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